Buono, non è possibile che le pare vede di scattare le stesse cose, è il suo modo. Che ha detto non ti dare la cona al gatto, che ha detto non giocare col mio di rato, che ha detto di qua, che ha detto di là, poi non mi dice, questo non ti fa, che ha detto non ti chiedere la sola in luna, un'altra è la mamma nella cazzina, che ha detto non sai che è il patience di qua, che ha durum la pausa e che si gratis Non ti dare la cona al gatto, non tarda nel better il tonto, non tarda nelFF Non ti dare la cona al gatto, non tarda nel Thor, io non terrifying Facciamo un applauso nei ragazzi. Facciamo un applauso nei ragazzi. Facciamo un applauso nei ragazzi.